Con il cuore in mano mi sento di consigliarvi questo sito Autobaselli, loro hanno anche un canale YouTube L'idolo è quel signore a destra, quello con gli occhiali È un idolo assoluto, hanno un canale YouTube che ha 3.000 iscritti in pochi per quello che si meritano Si meritano molto di più, spero che abbiano successo Vediamo le auto che hanno inserzionato, le commentiamo insieme Porsche 911 Cabrio, Mercedes classe G 350 diesel, Maserati 4 porte V6 Tra l'altro la classe G l'hanno anche analizzata, non vedo le MG classe C Probabilmente l'hanno venduta, è una macchina da 510 cavalli, bellissima Poi ci sono due ragazzi che hanno un gag, non so, le gagne bionde oppure fanno finta di svenire Nuovo BMW i5, poi il signore con gli occhiali è un idolo, penso che sia il titolare di questo concessionario Mercedes nuovo GLC Coupé 200 diesel, io faccio pubblicità chi se la merita E poi hanno un modo di analizzare le auto fantastico, due minuti come faccio io Due minuti parlano di emozione, di sensazioni, di musica, di sensitività, di gastronomia, di arte Insomma di tutto quello che è l'emozione nella vita, che l'auto è un'emozione Al di là dei dati tecnici che sono importanti, Audi Q3 Sportback 35T Poi vabbè, Jeep New Wrangler, questa è anche analizzata, c'è il video infatti 45.000 euro, Mercedes GLB 200 diesel Poi abbiamo un Kla 180D Premium a 40.500 euro, anno 2002 e 11.854 km Una Maserati 4 porti V6 Q4 410 CV a 39.900 euro E un BMW 520D X-Drive M Sport, bella questa, touring automatica, del 2019 Ve la regalano a 37.900 euro Mi sento di far pubblicità a persone che se lo meritano, che hanno un modo di analizzare i video Che più mi aggrada, che si confà quello che penso io dell'automobile Che è emozione e ci vuole poco tempo Se mi dai una macchina bella, un Jeep, in due minuti, come hanno fatto loro Che l'hanno fatto una prova bellissima, riescono a descrivere l'auto E io ti faccio partecipare alle emozioni Che è l'unica cosa che conta dell'automobile E io ti faccio partecipare alle emozioni